Noi avevamo già denunciato che con l'autunno, quindi siamo in pieno autunno, moltissimi cittadini, quei 665 mila, ma noi ne stimiamo sicuramente ancora di più per quello che sta accadendo, non saranno in grado di pagare le bollette oppure dovranno decidere tra alimentarsi o riscaldarsi e quindi ricreando una situazione che la mia, la nostra generazione ha sentito solo raccontare. È la SPCGL a lanciare l'allarme povertà anche per il Veneto, la regione locomotiva del ricco nord-est che si trova a fare i conti con un numero di residenti sotto la soglia di povertà in aumento di anno in anno e dati preoccupanti che registrano un più 57% rispetto al periodo pre-pandemia. Tra i più penalizzati gli anziani, soprattutto quelli con pensioni inferiori ai 1.000 euro mensili, che in Veneto sono più di 350 mila, dai sindacati la richiesta di misure immediate di sostegno. Intanto di intervenire sulla speculazione che secondo noi in questi mesi è stata assolutamente non presa in particolare considerazione e dopo devono essere fatti interventi di tipo economico proprio per evitare una situazione economica sociale spaventosa, io dico proprio spaventosa.